Giuseppe, allora cosa vedi tu come prima cosa in una donna? La vagina depilata. Ciao, siamo al venerdì di postale, c'è anche la nebbia effetto a me. Non so perché. Prendiamo il giornale e vediamo cosa succede nel mondo. Però io non dico niente, perché poi sentivo qualcosa. Eh, hai detto? Oddio, io non dico niente. No, Ptici. E poi questo tipo di programmi. Allora, nel buco parole sul giornale stanno parlando di questo killer che gira per le strade. Devo pisciare. Pisciamo. Che cosa hai detto? Oddio, la pisciata verde. Oh, sicuramente devo andare all'ospedale per farmi vedere perché piscio verde. E ci facciamo anche male quando pisci, no? Sì. Ah, è uscito. Quindi dobbiamo evitare di pisciare. Allora, prendendo un attimo... Ok. Stanno dicendo, stanno cercando questo killer sul giornale, indovinate chi è. Ok. Come prima missione andiamo alla clinica, perché sì. Andiamo a vedere cosa succede nella nostra vescica. Ci vediamo fra pochino. Siamo arrivati all'ospedale. Andiamo a farci controllare la vescichetta. Ok, ho trapassato una porta, va bene. Buonasera. Buonasera. Hi there. Can anyone help you? Hmm. I'm experiencing a sort of burning, itching, spewing kind of effect. Cadetto? Cancel. Cancel. Let me take a look. Aw, gonorrhea. Gonorrhea. Grazie. Thanks. Next. Quindi adesso la prendiamo. That feels better already. Ok. Proviamo a pisciare. Ok. Pisciamo normale. Perfetto. Adesso ci dirigiamo ad andare a prendere l'alternatore, perché è più vicino, credo. Ci vediamo fra pochissimo. E siamo arrivati alla discarica per prendere un alternatore nuovo. Allora. Voglio sapere come si attiva. Sei proprio sotto quella macchina, lo sai? E la cosa mi piace. Aspetta un attimo. Ma non c'è una cazzo di leva. No, dai. No. Ma che fai? Mi devo fargli cadere la macchina addosso. Ma che stronzo. In un modo o in un altro ci riuscirò, non ti preoccupare. Che stronzo. Ehi. Ciao. Ciao. Ehi Chico, ho bisogno di un alternatore per un 87 per te. Questo sarà 500 euro. 100 bucks. Stavo con un botto di soldi. Vabbè lo paghiamo. Allora. Non ho l'altro qui. E se no, poteva ammazzare. Potrei ammazzare. Sì, ma non mandavo. E perché? Se avessi diventato onesto. Cioè, vuoi far cadere la macchina in testa a quella? Eh... Però l'ho... Ecco qua. Ok. Abbiamo preso l'alternatore. Vai. Cos'è facile facile. Facile facile. Che cazzo succede? Cosa sono quei cani? Cazzo i cani! Che cazzo! Niente! Ni dagli cosi! Oh no! Dai! Chezkco! Ok, togliamo l'arma da mano Bene, non ho più i miei soldi No, per nulla Ok, abbiamo preso l'alternatore Adesso andiamo da dove? Andiamo dall'ozio Dave Sì, andiamo dall'ozio Dave Ci vediamo proprio Ok, siamo per la strada Per arrivare dall'ozio Dave Ecco, c'è già un posto di blocco Dalla polizia E noi andiamo Oh, come si sono superato il posto di blocco Ho già fatto la cazzata Ecco qua Direi che è una giornata tranquilla L'ozio Dave Militare, polizia Sì, sì, tutto Ok Cecchini Ok Ancora Zeppe Simone Bene, sono cazzi Se andiamo là, ci troveremo nella merda No, non siamo zelotti Eat, let, and die Non credo che è un scum Secure l'area Vai, è forte La vedo brutta La vedo brutta La vedo brutta, ragazzi La vedo brutta Fortunatamente non mi ha rallentato I cani Cazzo, i cani Biscotto, biscotto, biscotto Canino Prendi il biscottino Prendi il biscottino Ma pure tu, coglione Se non mi attaccherete mai No Non ha funzionato Ma ora è con me Quello che era con me è morto Ok Ricordiamo Ecco Quello che è successo Allentiamo il tempo Ok Direi di non usare a No Direi di usare armi, sì In questo caso mi servirà il gatto Allora Prendiamo il nostro Fucilapompa Amico Sì, amico Eeeh Dov'è? Ok Possiamo andare Ma povera amore Possiamo andare Possiamo andare Possiamo andare Eccoly, eccoly, eccoly Merda, mi tirano la pazza Merda Mi stanno sfondando Guarda quello stronzo Guarda quello stronzo dov'è No, devo sparargli contro Ho capito Fucili di precisione Funziona sempre Guarda che c'è lanciagranate Quello là Quello ha lanciagranate Prendilo Tutti con fucili di precisione Tu devi morire 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 Cazzo, c'è lanza con lanciagranate Tu devi morire Ok, ho trovato Ok, ho trovato quello con lanciagranate Ok, loro dovrebbero essere tutti morti No, non tutti C'è ancora una Prendiamo la nostra accetta di fiducia Ok Puriamoci per bene Prendiamo la nostra accetta di fiducia Prendiamo la nostra accetta di fiducia Ego, Uncle Dave Happy fucking birthday Kick ass Ok, provate il regalo al nostro azio Perfetto Perfetto Eh, come può essere Che è una Secondo voi No, poteva andare bene No Che succede ora? No, è entrata la polizia Cazzo Ok, dobbiamo farci la con la polizia come sempre Ok il mio via 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 ci vediamo a prendere il pacco ragazzi ok arrivati siamo eh si ok arrivati ok ragazzi siamo arrivati a prendere il pacco eh andiamo andiamo eh dove si va a prendere il pacco voglio il mio pacco a chi devo parlare dove oh signorina mi serve un pacco ecco ah diamo i soldi ok abbiamo preso anche questo vai penso che è finito anche il venerdì ormai abbiamo preso anche il pacco sento un ticchettio cos'è quel ticchettio non mi dite che ho un pacco bomba non mi dite che ho un pacco bomba non mi dite che ho un pacco bomba è un pacco bomba oddio saranno presa con me adesso che c'era il pacco bomba non mi dite che l'ho fatto io il pacco bomba idiota ma è dove decidi no non mi dite che ho un pacco bomba non mi dite che ho un pacco bomba ok 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 ragazzi hanno scoperto che sono io il killer adesso la città è presa dal panico più totale perché tutti ammazzeranno tutti in questo momento stai ci sono in questo momento sono in questo caso il gioco dovrebbe essere finito ragazzi ma io ho anche il sabato e la domenica di postal quindi ci vediamo alla prossima puntata che sarà il sabato di postal e vi lascio con il finale ciao a tutti ragazzi guardie lasciate costa